Ciao a tutti ragazzi, modalità domenica mattina è domenica mattina, sono le ore 9, 9 e 30 e questo è quello che succede i genitori sono nei campi sportivi dell'iSchool a vedere i loro ragazzi che giocano questo è football, poi laggiù credo che stiano facendo calcio, non lo so vabbè, andiamo a impicciarci questa è una cheerleader, Paola, si è persa i pompon applausi 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 Luca Larizio on the carry for the Tigers ball is now spotted at the Falcon 43 yard line that was number 33 Caden Kraus on the interception for the Tigers as the final seconds stick away in today's contest your Eastern Tigers 38 Alston Falcon 6 we can win W-I-N we can win W-I-N we can win W-I-N we can win W-I-N well, we are surrounded now we can go we can win W-I-N we can win W-I-N we can win W-I-N hello Paola we can win W-I-N